bella tutti siamo qui con un nuovo video che è un nuovo unboxing che vi sto portando il nuovo hyper x quad cast come microfono per la vostra postazione da streaming o per i vostri video su youtube su facebook instagram ovviamente questo prodotto è la prima generazione la seconda generazione l'unica cosa che cambia è che le lucine del microfono possono essere cambiate penso che cambia anche un po la circuiteria dentro e non ha una micro usb ma ha una type c questo attualmente su amazon non si trova sui 153 e la sua seconda generazione che per adesso non è disponibile quando cercherò di pubblicare il video solo si trova circa 185 180 euro e deve essere un ottimo microfono questo è come si presenta la scatola ovviamente questo tipo di microfono se la prima che la seconda generazione sono compatibili con pc addirittura ps4 pro questo non lo sapevo l'ho scoperto guardando dei video mac tutti i programmi che potrebbe essere compatibile che è riconosciuto da questi programmi tipo xsplit obs mobile skype discord team speak a e all'interno della confezione oltre al suo peristallo sul shock mount abbiamo addirittura l'attacco per il braccio dove si va attaccare il microfono se uno non vuole utilizzare il suo piedistallino più il cavetto da due metri si dietro è fatta così quello che vi dicevo dopo vi faccio vedere cosa sono queste qua e vi spiego queste quindi vedete che quello che vi dicevo dopo ve lo spiego la scatola è bellina è per x questa qua scritta il rilievo prodotto preso su amazon adesso andiamo a fare l'unboxing con il coltellino cutter ci siamo un po evoluti un po di pena ogni tanto coltello dal rumeno o dal ben easy e oggi cutterino mettiamola lì questa come si apre si può aprire sia di qua aspettate che qua sembra pesa arcanica come si apre come si apre forse da qua trovato si fa così all'interno troviamo un coupon no niente coupon per dire che ci ringraziano un altro no ma non li giro perché così almeno le fatidiche istruzioni che noi no teniamo è perché sto giro voglio imparata ma che cazzo così come si fa sui pc ecco meno male che ho fatto così il nostro bel microfono abbiamo il famoso cosino che vi ho detto per attaccarlo al braccio questo qua andrà attaccato qua e questo al braccio il cavetto è in tessuto è una micro no una mini usb dovrebbe essere se non erro mini usb e ora arriva infatti dico microfono guardate che spettacolo guardate che spettacolo quasi si illumina già lui è integrato di un pop filter da come ho capito questo qua il tasto per mutarlo so che è touch questo è il volume ok dietro aspetto facciamo una cosa così vi spiego anche meglio certe funzioni di questo microfono vediamo se riusciamo a staccarlo senza staccarlo ok ce l'abbiamo fatta si dovete stare attenti che dovete sfilare anche questo ok qua dietro il regolatore così vi spiego come funziona il primo dovrebbe essere se non ricordo male bidirezionale quindi in teoria quando voi ce l'avete così dovrebbe essere sinistra e destra poi il pallino tondo è omidirezionale o subcardioide sul terzo pallino dovrebbe essere supercardioide e il doppio pallino dovrebbe essere direzionale mezzo fucile c'ha questi termini qua un po' complicati ovviamente poi in base a quello che dovete fare in base a che effetti dovete fare lo regolate qua passano tutti i dati e le informazioni del microfono e nello stesso tempo potete ascoltarvi da dentro il microfono adesso vi mostrerò acceso sia illuminato che la qualità audio ragazzi ora vi mostrerò la qualità sonora del microfono che già adesso tra le prime parole che sto già usando il nuovo microfono attualmente il microfono è distante da me come l'ho impostato circa 15 20 centimetri distanti dalla faccia impostato su su questa impostazione qua che vi sto mostrando in figura che il cardioide che qua dice che è consigliato per il broadcasting streaming doppiaggi strumenti e l'effetto è tipo questo qua che ora mi sto avvicinando che è molto bello caldo ovviamente tutto l'insieme anche con questo effetto qua è stato dato da delle impostazioni che ora vi mostrerò che ho messo un compressore e l'ho impostato con questi valori perché se no perché in camera mia dove ho la mia postazione si sente la mia voce che è ancora più metallica con molto riverbero in cameretta perché la cameretta non ce l'ho insonorizzata non ho pannelli non ho niente sono solo armadie di legno ho il pavimento di legno ma tutto il resto non è insonorizzato e questi dati qua li avevo presi da uno streaming che già ci stavano rende una qualità audio migliore rispetto ad altre ora vi faccio un'ulteriore prova tipo il piacere più grande nella vita è far ciò che le persone dicono sono in modalità cardioide se no mi allontano normalmente il piacere più grande nella vita è far ciò che le persone dicono che non puoi fare questa è la qualità comunque del microfono sotto i filtri quindi se dovessi togliere i filtri metti i valori predefiniti anzi no faccio così sicuro sì ok chiudi dovrebbe avere questo effetto un po' metallico che magari ora si sentirà ed è questo e tutto grazie a tutti Grazie a tutti.